Telecamere anti-assembramenti e questo lasso nella manica del comune di Pescara per riuscire a domare la movida del centro città. Saranno i dispositivi dotati di intelligenza artificiale a svolgere il ruolo di vigile. Nel momento in cui sarà rilevata la presenza di persone troppo vicine l'una all'altra, ecco che una voce robotica correggerà il malcostume, invitando la compagnia a mantenere le distanze. Abbiamo inserito delle telecamere che verificheranno gli assembramenti e la vicinanza delle persone senza che ci debba essere una persona deputata a fare questo. Le telecamere avvertiranno anche i cittadini in caso di assembramento perché oggi dobbiamo passare dalla fase dei divieti alla fase della responsabilizzazione di ciascuno di noi. Insomma il comune si fida dei propri cittadini, ma fino a un certo punto. Gli instancabili occhi robotici infatti nella zona del mercato coperto registreranno ininterrottamente immagini che potranno essere visionate dalle forze dell'ordine in ogni momento per individuare e sanzionare eventuali reati o comportamenti ritenuti scorretti. Ma anche per controllare che tutti i locali rispettino l'orario di chiusura. Deve essere tenuta sotto controllo, ecco con 18 telecamere sicuramente avremo un controllo stringente e puntuale e quindi scoraggeremo tutti coloro che invece di andare a divertirsi in maniera serena e tranquilla pensano di divertirsi facendo atti illeciti, irregolari contro le norme del vivere civile. Le telecamere posizionate in piazza Primo Maggio, piazza Muzi e via Cesare Battisti saranno in funzione dalla prossima settimana.